Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America si tratta del 46esimo presidente di tutta la nazione americana per eccellenza e le mie parole di Biden sarebbero state le seguenti sarò il leader di tutti pensate che Biden viene considerato dagli americani come lo zio buono d'America è un democratico è una persona che possiamo considerare l'Obama in versione bianca e pensate che proprio lui è colui che per un pugno di voti è riuscito a vincere le elezioni presidenziali e a diventare di fatto, de facto, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America tanti auguri di buon lavoro a Joe Biden speriamo che sappia lavorare bene in maniera completa, attenta per il bene degli Stati Uniti d'America grazie a tutti, iscrivetevi al canale, commentate ciao a te, una donna radio italiana grazie a tutti